Si è appena conclusa la settima edizione della Florence Cocktail Week dove è stato protagonista anche il Delicat Maurino dell'azienda Franci grazie al cocktail Camillo il Magnifico realizzato dal bartender Simone Covan. Maurino è stato infatti appena eletto miglior olio extravergine d'oliva d'Europa nell'ambito del premio Il Magnifico, ospitato nelle scorse settimane dalla cantina Antinori nel Chianti Classico. Il premio Il Magnifico ha un obiettivo chiaro, diffondere la cultura dell'olio extravergine di qualità per far capire al consumatore perché pagare un prezzo maggiore per un olio anziché un altro. 250 campioni da 7 zone di produzione europee è stata la concorrenza che il monocultivar Maurino ha dovuto sbaragliare per meritarsi membra, la dea etrusca dell'olio coniata in bronzo per l'occasione. Ma oltre al bartender Simone Covan, anche il mastro gelataio Vetulio Bondi ha scatenato il suo estro, preparando un gelato emulsionato a freddo con l'olio vincitore, che speriamo riproponga presto, molto presto! Se ti è piaciuto questo contenuto condividi, metti like e iscriviti ai nostri canali LalaWine Magazine Grazie a tutti!